La Valle dei Templi si è aggiudicata il premio come miglior paesaggio italiano, riconoscimento che il ministro ai beni culturali Dario Franceschini ha consegnato al sindaco di Agrigento Lillo Firetto e al direttore del Parco archeologico Giuseppe Parello. La scelta è stata effettuata tra 38 progetti selezionati nell'ambito delle 97 candidature ricevute. Adesso la Valle dei Templi rappresenterà l'Italia alla competizione continentale indetta dal Consiglio d'Europa. Il progetto premiato è stato denominato Agrigentium Landscape Regeneration. Il progetto, si legge nella motivazione, ha messo in pratica i principi della Convenzione Europea del Paesaggio attraverso politiche d'eccellenza. Se ne riconoscono quindi le capacità di coniugare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale con il recupero della memoria storica, di antiche pratiche produttive e la creazione di prodotti di eccezionale qualità, assumere un ruolo di catalizzatore delle buone pratiche produttive, sviluppare una cooperazione tra soggetti pubblici e privati, saper mettere in pratica le finalità espresse nel riconoscimento di sito UNESCO, indurre benefici nei soggetti che operano nella produzione agricola, oltre al merito di aver attivato ricerche e studi finalizzati alla valorizzazione nelle aree rurali del parco. Hanno contribuito all'assegnazione di questo prestigioso premio anche la Costituzione, nel corso degli anni, di percorsi in bici e a piedi, di percorsi di educazione ambientale per le scuole, la bellezza del giardino della Golimbertra, gli orti sociali, il ripristino di piscine, ruscelli e viali di agrumi e melograni.